Sono pronto Sono pronto Prontazione Credo che ci stiamo avvicinando alla boss paletta Non prima di un altro spazzamento di coglioni Eh, no, merda Ok Questo è un problema Può essere sicuramente un problema Bene, il problema è risolto Ho tenuto una skin per pazzo, ma pazzo non ce l'ho Mi piace ottenere skin per pazzo nel momento in cui io non ho pazzo È proprio un Ehm Ma la cosa è meravigliosa, no? Merda Ehm 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 Dopodiché la giudice in persona Ehm 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 sparare per forza ok poi diciamo che l'avevo decisamente sottovalutata la spada sarà che io per risposta anche dalla distanza e colpa a corpo ok ok questo è il modo di rai di tanto Anche E' molto accazzuto E' tutto molto molto accazzuto Ok E' con la spada Ok Ah due angeli Proprio La combo dell'anno Oh bomba E' quelli La sono Mmm Scappa Andato Poi che è la cantrice Ok 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 ho il Ok 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 Mmm esplodi Ok Ok Guardate che ammetto Con tutta la barogia Allora Paffino lo sbocco Mi spiegherà di andare Poi magari Magari sbaglio Ok 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 L'importante L'importante è che qui non mi dia Questo è un sito po' che ho sito Ok 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 Se ho messo le due mani lì... va benissimo Non lo so, Giulie Ah, ancora non sei morto Ohia Perché ce n'è un altro, forse? Ce n'erano due e non lo sapevo Per forza ce n'erano due, capito Vai Eh, cioè... Qui stiamo... Secondo me... Ci stiamo alargando, eh Che cazzo vuol dire che devono combattere anche quelli? Allora... Allora... Ok... 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 Ma... Che cazzo di mozza è la... Ok... 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 Oh mio dio, è finita Ok... 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 Andiamo a un ultimo livello Alla Thanos That the prophecy will come true And the unknown will assault heaven next They have little faith Let us see how it ends So come death quindi se il giudice prende in ogni danza, soul, e tutti gli altri un ultimo hurra e manda a noi tutti l'oblivio non dovrebbe morire facile poteva andare meglio, ma non poteva sicuramente andare peggio magari dopo quella merda gli scordano non è molto più tardi tutto iniziato e finito qui beh, è bene il basso meglio il basso aiuto il messaggio ok ok questa cosa è noto la difficoltà un minimo si può essere vabbè che tanto non è che sia facile non percepisco le ali difenze scusa sono un altastero sono un altastero ok 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 ci divertiamo ci divertiamo ok ecco, a te ci divertiamo, si ok non vedo un cazzo ok ho sentito un guard no ma è terrificante questa musica non 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 Ah, che! Ma non mi lavo solo. Mmm, per quanto io sta te muero. Ok. 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 non è che io schia bene eh devo mettere uno spina aziale perché mi piace respirare cambio di outfit assolutamente è doveroso perché con il riscaldamento acceso in questa camera si muore per non far starci io ci sminno sto male da una cosa poi me lo cerco dopo non è che sono con i livelli bonus il final dov'è sergi tankian io non dico che ho scaricato il gioco per lui però quasi eh ok nel senso quasi non interrompe l'ora però ok 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 mi piace che mentre sto cercando di andare al ritmo si è fermati si sono fermati tutti per farmi andare al ritmo al ritmo tempo molto cazzo perché c'è lo bolloso cosa hanno pensato gli sviluppatori ma vediamo di cagare il cazzo quanto più possibile ancora si c'è si c'è tu ok ok Ah, posso fai questo io? Hai giunto un'anzi ritmo che di 10? Cazzo, ho guardato adesso Speri che non avrei fatto l'estima, è stata dell'anno Andiamo Ma non sto vagando No, ok Guarda, il ritmo di oggi è buono, eh Eh, ho perso, vabbè Eh, ogni tanto la ghicchia Basta Ho perso tipo 2FA nella vita, non neanche via Ho perso Chissà cosi Via Sì, alla fine nessuno possa poter ridare una sola arma Ci siamo, alla fine No, solo un'altra disangresta Questa Allora, diciamo che Le mini da fuoco sono utilissime Per Quegli altri E per i boss Per orde come questa Conviene Conviene la spalla Bene, adesso una cosa con il Tutto di ritardo, sono d'accordo Cosa vuoi che sia Che Oh, sono a 316 Eh Ok Violare Che bello Che bello è Il cantante di Refused Invece Invece Mi immagino Sergio Vabbè, ho ottenuto Alissa Tra l'altro Io Lo rifaccio assolutamente Perché Lo voglio Lo faccio Ah Ho effettuato 666 Eccisioni, bellissimi Abbiamo Però Che Vi faccio la difficoltà più bassa Perché Voglio assolutamente Sentire Alissa di più Mi piace tantissimo È uno dei cantanti che Pater Non un uomo del metal Seconda Sora Per quanto faccio un genere strumento diverso Simon Simons Dell'Eliatrix Ok lei è spettacolare perchè l'ha trattato degli degli Xandia ragazzi ho dei cellar d'airland ma sto diviando sto divagando questa è una bella effeccherata guarda almeno cazzo è più azzeccato di questo perché ho solo brutto all'airland ok che si è una scabbia mi piace ovviamente c'è una donna anche lei però non lo so Simon Simons e Alisabeth Lutz sono incredibili al mio gusto personale ah vedete? quando sei nella merda ok 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 ah di quello ho passato a 4 16 per mia andata ah ecco in che modo mi penalizza non andare a tempo praticamente mi blocca per 3 secondi sì niente niente inflamata cazzo voi vi beccate ok bella bella passata di proiettili ok ok che bello questo è un uomo un uomo qui in stile e-man ha fatto una locania di manual e-man 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 eh scappa tu prova hai servito no quanti cazzo siete Allora, tu... Ok Andiamo ad utilizzare un palliamino fuoco Ok Ma ci sono... Ci sono i posti? Ok Ok Ci va di riprendere... Ah... Eccosi Ci sono otto nemici in quattro secondi Vabbè, erano mille Sono due Quelli che vengono chiamati bimot Sono due Ok Sì Perché impazzisco che sono due, eh Cazzo, c'è una delle cazze di mostro Se facciamo il bimot proprio il video O meglio Sì Ok 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 Ok